sono fatuna vi saluto da napoli ma quelle qualifiche degli misori leader della società skyward community per minuti in skyward allora io sono le qualifiche investore del leader della società skyward community sono mamma di tre bambini di cui due sono studenti e abbastanza fermati che è una grande gioia per una mamma emigrata sono emigrata da tre anni e svolgo tutte le attività a distanza dal mio posto di lavoro o esperienza di lavoro in strutture statali 15 anni di esperienza nella comunicazione nelle relazioni in ambito medico o anche 18 anni di esteri e gestione in imprese private ed esperienza imprenditoriale nel settore delle vendite e dei servizi sono uno specialista certificato di lingua italiana livello a2 avendo esperienza di comunicazione mi ha aiutato a creare un gruppo dirigente nella community skyward che è sviluppato in francia giorgia spagna bologna italia israele con l'aiuto del mio team in soli due anni sono stati investiti oltre 13 mila dollari e tutto è successo grazie alla comunicazione online allo stesso tempo in questa fase del sviluppo l'azienda ha offerto programmi di formazione certificati e attualmente le specialità più richieste altamente pagate in cui il mio team è attivamente coinvolto c'è un stabilimento di produzione un centro ed innovazione shaja e minsk dove lavorano 3000 ingegneri istruttori esperti che gestiscono ogni dettaglio del futuro trasporto con la massima precisione in cui voglio dirvi che ogni dettaglio a 100 anni di garanzia può immaginare che prima del 2014 persone non stavano investendo letteralmente in nulla solo era un'idea e il grande desinteressato lavoro del creatore di questo progetto e ora ti presentiamo skyward community opportunità di offerte commerciali il progetto di cui parleremo oggi ed è proprietà dell'anatole uneschi con una storia di sviluppo di 40 anni sì allora nella proprietà intellettuale del suo progetto è stimato in 400 miliardi di dollari ed è dopo 40 anni di sviluppo che dal 2014 è diventata una grande azienda un progetto che oggi ha le migliori offerte del mercato lo stesso anatole uneschi ha già 73 anni ed è sicuro al milla per cento che tutto questo si realizzerà nel corso della sua vita non non ha rifiutato realizzazione questo progetto anche quando la sua vita era in pericolo allora ogni partner della società sky community c'è una posizione ereditizia quindi qui è possibile firmare un successore e anche ricevere entrare aggiuntive del programmi di partnership di cui parleremo in un incontro specializzato per gli interessati rappresentati da di oltre 200 paesi sono attivamente coinvolti in questo progetto per ottenere una vera prosperità finanziaria è già un processo irreversibile e di qui parlano i progetti già realizzati pianificati e firmati questo progetto ha soddisfatto tutte le aspettative del signor anatole uneschi che ha avuto l'idea di costruzione costruire città in lineali dove servirà il trasporto sky i nostri bisogni quotidiani e la natura saranno riservati siamo d'accordi che questa cosa è una cosa importantissima e abbiamo bisogno rappresentati di oltre 200 paesi sono attivamente coinvolti si allora quindi il nostro profitto è che in rate i dividenti guadagni dal programma partner l'ereditarietà disposizione sulla restituzione del denaro diventi in proprietario di tecnologie partecipa in un progetto ambientale ampio e globale per salvare il nostro pianeta blu è una bella cosa proprio basta passi alla storia come fin altro poi crei capitali per una vita spensierata hai la possibilità di viaggiare per raggiungere dubai attestato di formazione in specialità impegnative e altamente retribuite allora il valore nominale del suo acquisto è direttamente proporzionale al numero delle tue azioni personalmente è stata per me una grandissima gioia rendermi conto di aver comprato 120 mila dollari perso da soli mila dollari cosa non avrei potuto fare nella vita reale anche noi abbiamo un sito uneski.engineer dove potete trovare tutti i certificati che ha avuto una grandissima gioia che io ho potuto diciamo comprare 120 mila dollari cosa dovrei fare per guadagnare questa cifra e o in quanti anni potrei risparmiare così tanto sì è per questo che l'azienda skyward community è diventata in sesso e il supporto della mia vita la cosa più importante è più importante che per te ci sia un prodotto reale che puoi visitare toccare sentire la sua velocità e comodità per te stesso non ha bisogno di essere paragonato a nessun altra azienda questo è l'unico progetto veramente è un è una cosa incredibile però per oggi già è disponibile per tutta l'umanità lo sviluppo tecnologico questo è l'unico progetto ecologico globale che ci offre molte opportunità interessanti l'ecotecnopark è stato realizzato ed è operativo in bella russia nella città di marina borca e negli arabi negli emirati arabi uniti in particolare nella città di scienza ecco qui nel contro di innovazione intorno all'università americana dove è già possibile visitarli per me personalmente e per molti partner è diventato ancora più credibile che l'italia sta in true sia tra i due 100 paesi partner e ora ti dico da dove prendiamo allora i nostri benefici il 32 per cento della quota del valore delle tecnologie viene messo in vendita sotto forma di azioni e con gli investimenti allora per acquistare gli azioni si con gli investimenti pubblici si effettua l'acquisizione di azioni e noi diventare con clienti con proprietari di tecnologie innovative ma la società società skyward community è stata registrata in inghilterra a isole pergini come società europea nel 2014 pertanto i diritti dei singoli copartner sono scritti i tutelati della normativa europea inoltre l'ordine di partecipazione inviato dal registro pubblico inglese all'indirizzo indicato dopo la registrazione della società le sue fasi di sviluppo sono state suddivise in quindici fasi ad oggi abbiamo già completato la quattordicesima fase del suo sviluppo e siamo prossimi alla quindicesima fase già quest'anno la società skyward community è stata introdotta con il nome cambiato tecnologia delle stringhe uneschi che si dice così uneschi string technology e dopo il completamento della quindicesima fase si sta già spostando sul mercato mondiale e ci stiamo avvicinando alla maturazione dei ingredienti allora pacchetti azionari partono da 2.250 dollari e arrivano fino a 150.000 dollari Secondo l'interesse degli azionisti, un rappresentante di qualsiasi classe sociale può investire. È possibile usufruire di rate intere e fase 0 sul pacchetto azionario. Non perdere il tempo per attenere maggiori informazioni e fornisci subito al tuo invitato il link di registrazione o fissa un incontro per darti risposte più specifiche nella direzione che ti interessa. Allora, questo è il progetto. Ho disatisfatto tutte le aspettative del signor Anatoly Junetsky. Noi stiamo partecipando a questo progetto perché è innovativo, ad alta velocità, sicuro, facilmente integrabile e soprattutto ecologico. Allora, ecco la società Junetsky Street Technology con le sue offerte e opportunità e io sono stata. Hacuna ha tratto dalla qualifica di investore leader di questa società. Grazie per l'attenzione. Vi saluto da Napoli. Ciao.